Ciao, buongiorno amici di The Crypto Academy! Eravamo qui belli rilassati quest'oggi, che a un certo punto Jacopo mi dice Ma Marco! C'è il fork di Ethereum! Caspita! Andiamo a vedere cos'è questo fork di Ethereum e andiamo anche a analizzare il prezzo di Ethereum. Andiamo! Eccoci benvenuti nel sito ufficiale di Ether0. E cos'è Ether0? Ormai conosciamo i fork, li abbiamo conosciuti con sua maestà Bitcoin che ha dato il via, non Bitcoin, però i fork di Bitcoin che sono stati un po' i pionieri in questo settore. Hanno dato il via a tanti fork che poi sono diventati insomma di moda quasi conosciuti perché si vuole andare a migliorare quello che è un protocollo già esistente, ecco che viene e avvengono questi fork. In questo caso ad essere interessato è Ethereum, questo è un fork di Ethereum. Ethereum Ether0 e andiamo a vedere quali sono, innanzitutto, quando avviene questo fork. Allora andiamo velocemente a vedere l'orario. Il fork avviene il 19 gennaio del 2018 alle ore italiane tra le 6 e le 20. Quindi qua vi mettiamo anche il link sotto il video per andare a vedere voi stessi personalmente tutte le informazioni che ci sono in giro per la rete. Ci sarà un totale di monete di 194 milioni di Ether0, 2 mega per blocco, questa è la capacità del blocco. E inizialmente verranno distribuiti 116 milioni di Ether0. Qual è il cambio? Il cambio è un Ethereum, un Ether0. Quindi per coloro che avranno Ethereum nei propri wallet, adesso andiamo a vedere dove, riceveranno anche un Ether0. Con il cambio 1 a 1. È stato stimato che ci sarà un incremento di 6 milioni di Ether0 ogni anno. E qua ci dicono dove tenere i nostri Ethereum per beneficiare del fork. Ma lo possiamo andare a vedere anche nel sito ufficiale. E wallet compatibili qui abbiamo MyEtherWallet, JAX, Metamax, ImToken, Ledger, alcuni più conosciuti, altri meno, Blockchain, Trezor, Eidu. Insomma stiamo citando un po' quelli che utilizziamo maggiormente qui in Italia. Dove verrà listata questa criptovaluta, questo nuovo progetto? Allora gli exchange che sono stati contattati sono questi. Praticamente tutti non abbiamo la certezza che poi questa criptovaluta verrà listata su questi exchange. Quindi Bitfinex hanno chiesto a Coinsbank, Chex.io, Cryptopia. Non abbiamo ancora informazioni su dove verrà listata realmente. Per beneficiare del fork ricordiamo che dovete tenere Ethereum negli wallet indicati. Quindi eccoli qui, MyEtherWallet, quelli che dicevamo. Allora perché avviene questo fork diciamo e cosa vogliono portare con questo nuovo progetto? Allora vogliono migliorare la velocità di pagamenti con zero fee, lo sviluppo di applicazioni decentralizzate, migliorare la scalabilità, cioè il quantitativo di transazioni che si possono fare nello stesso istante e la cosa molto interessante è lo sviluppo di masternode, come già avviene con progetti ad esempio Dash, Walton ed altri che magari già conosciamo. L'interessante è che per fare un masternode di ether zero sono richiesti 10.000 ether zero. 45% ritorneranno ai miner, il 45% ai masternode e il 10% verrà redistribuito per il progetto. Qui abbiamo un po' la roadmap che si svilupperà nell'arco principalmente del 2018 con la realizzazione di wallet anche per mobile e poi la realizzazione di questo masternode che inizia con i test in testnet nella prima fase di questo anno per poi svilupparsi completamente verso la fine del 2018. Quali sono le note stonate? Andiamo a vederle velocemente. Quali sono le note stonate di questo progetto? Una, che ci sono 20 persone all'interno del progetto che realmente non si conoscono, sono sconosciute, non sono presenti nemmeno nel sito. Due, se noi andiamo nel sito ufficiale di ether zero, che è www.etherzero.org, vi lasceremo il link sotto il video, vedrete che vi si aprirà, se lo fate con google chrome dove avete estensione di metamask, vi si aprirà questa pagina. Una pagina di metamask che vi dice fate attenzione a malintenzionati che potrebbero fare attacchi di phishing o qualcosa del genere. Ecco che metamask ha inserito il sito di ether zero nella lista dei siti malevoli e pericolosi. Perciò facciamo attenzione, noi costudiamo i nostri ethereum dove abbiamo le nostre chiavi private, negli wallet che abbiamo detto, facciamo massima attenzione e monitoriamo costantemente questa situazione e questo progetto. Andiamo a vedere adesso l'analisi tecnica del nostro grande Jacopo. E allora eccoci qua all'analisi tecnica di ethereum nei confronti del bitcoin, andiamo a vedere cosa sta facendo la criptovaluta interessata proprio oggi da questo fork, un po' controverso. E andiamo a vedere quindi che il prezzo ovviamente ha sfruttato tutto questo a fase discendente del bitcoin per approfittarsi e incrementare gli scambi e l'utilizzo di ethereum. Ovviamente con il fatto anche che accetta smart contract, tutte le ACO che nascono nella stragrande maggior, nella maggior parte delle volte, perlomeno per ora, sono tutte su base ethereum. Quindi sicuramente ethereum al momento è una di quelle criptovalute che sta riuscendo a tenere il prezzo e il suo valore in maniera sicuramente più elevata. Vediamo subito come, infatti, generato questo massimo assoluto qui nei confronti del bitcoin, il prezzo si è sceso nel suo fisiologico ritracciamento, poi si è iniziato a lateralizzare. Infatti vediamo che il prezzo è sceso, sostanzialmente generando questo minimo. Da qui il prezzo è risalito tornando sui massimi precedenti, ma i massimi precedenti non è riuscito a romperli. Quindi andiamo a tirare una linea così lo vediamo bene. Ecco, sostanzialmente il prezzo torna qui, non riesce più a rompere questi massimi precedenti, scende nuovamente, qui fa una pin bar. Ok, quindi comunque sia un segnale anche di per sé abbastanza significativo, in quanto tutta questa ombra è un po' falsa, cioè tutta questa tendenza ribassista che poteva sembrare alla visione di questa grande candela rossa, poi in realtà è stata completamente riassorbita dal mercato ed è come se non fosse successo niente in realtà. Poi comunque il prezzo continua la sua discesa, ripercorre un po' il percorso dell'ombra, torna precisamente su questo livello precedente e non riesce nuovamente a romperlo, il prezzo risale di nuovo e al momento è perfettamente alla metà di questo range, di questo rettangolo laterale in cui si è formato bitcoin. In prossimità di questo fork ci aspettavamo che il bitcoin crescesse sinceramente di valore, in quanto visto che il cambio è 1-1, per ogni Ethereum si otterrà un Ethereum 0, di conseguenza ci si aspettava che le persone acquistassero Ethereum per ottenere poi così gratuitamente questa nuova criptovaluta. Questa cosa non è avvenuta, ripeto, per il momento Ethereum non ha registrato tutta questa grande flessione che molte altre cripto invece hanno subito, però al momento è in una fase totale di incertezza e a metà di una fase laterale. Quindi vedremo come si comporta il termine del fork nei prossimi giorni, con questo è tutto, teniamo monitorati questi due livelli della fase laterale, del range e del rettangolo e vedremo come va. Con questo è tutto, vi saluto, ciao ragazzi! Bene, speriamo di avervi chiarito le idee per quanto riguarda il fork di Ethereum, seguiteci se avete domande nel gruppo Facebook Cryptovalute Accademia The Crypto Academy, seguite anche Jacopo sul canale YouTube, Tutti i giorni fa analisi tecniche sulle criptovalute, quindi chi vuole imparare anche questa professione del trading, seguiteci, mettete un bel mi piace al video, ci vediamo alla prossima! Ciao!